Kent! L'elefante! Ciao ragazzi! Wow! Perché questa ruota viene verso di me? Ehi, aspetta! Yey! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Perché non si muove? Andiamo, sbrigati! T! Uno, due, tre, quattro... Di che colore è? Rosso! Wow! Guarda quante palline stanno saltando fuori! Rosso! Ciao! Sono tornato! E anche la ruota! Sì! Mi chiamo Kent! Sono un simpatico elefante! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Questa freccia è di nuovo incastrata! Oh, eccoci! Uno, due, tre, quattro... Quattro... E' un simpatico elefante! Insegnare i colori è il mio obiettivo! Ecco perché mi piace fare questo gioco! Facciamolo ancora! Uno, due, tre, quattro... Di che colore è la porta? Pensa, pensa! È rosa! Guarda l'esplosione dei palline! Rosa! Così tante palline rimbalzanti! Ehi, ti piace questo gioco? Guarda, la ruota dei colori è tornata di nuovo! Sì! La freccia è bloccata ancora una volta! Avanti, freccia, per favore! Muoviti per Kent! Sì! Uno, due, tre, quattro... Di che colore è la porta? Verde! Wow! Verde! Ciao! A presto! Iscriviti al canale Kent l'elefante! Kent l'elefante! Ciao a tutti! Sono Kent! Kent l'elefante! E sono appena tornato dal mercato! Ero andato a fare la spesa di frutta e verdura! È stato così divertente! Ma c'è solo un piccolo problema! La mia frutta e la mia verdura sono mischiate! Ho bisogno di metterla in ordine! Mi aiuterai? Sì? Bene! Cominciamo allora! Cos'è questa? Tonda e rossa! È una mela! Questa sicuramente è un frutto! Oh! E questa è una carota! Sicuramente una verdura! Bene! Continuiamo! Un'arancia! Questo è un frutto! Sicuramente! Ottimo lavoro! Una melanzana! Mmm... Sarà... Una verdura! Ottimo! Broccoli! Sicuramente una verdura anche questa! Una fragola! Adoro le fragole! Frutta! Sì! Grazie ragazzi! Spinaci! Cosa ne pensate? Verdura! Giusto! Cavo il fiore! Eh... Verdura anche questo! Poi abbiamo... L'uva! Mmm... Frutta! Assolutamente! Oh! Una banana! La mia preferita! Frutta! Zucchina! Zucchina! Mmm... Direi... Verdura! Assolutamente! Anguria! Questa è... Mmm... Cosa pensate? Frutta! Wow! Siete stati bravissimi! Fantastico! Grazie per l'aiuto! Nella frutta ho... Nella frutta ho... Mela... Banana... Anguria... Fragola... Uva... Arancia! Invece tra la verdura... Broccoli... Carote... Cavolfiori... Spinaci... Melanzana... Zucchina! Sono pronto... Per una bella macedonia! E per un'insalata di verdura! Grazie a tutti! Alla prossima! Ciao ciao! Iscriviti al canale Kent l'elefante! Kent! L'elefante! È una bellissima giornata di sole! Ciao uccellino! Mmm... La mia ricerca del giorno! Wow! Una mappa del tesoro! Tu sei qui! Devi attraversare il ponte... Entrare nella foresta... Poi... Attraversare il mare! E infine... In cima alla collina... Dell'isola del tesoro... Troveremo... Il prezioso tesoro! Questo sarà un viaggio così emozionante! Andiamo! Oh! Guarda! Una macchina rossa! Questa... Mi aiuterà a attraversare il ponte! Sì! Sono alla ricerca di un tesoro! Vieni con me, vero? Sarà così divertente! Sì! Sembra che abbiamo raggiunto la foresta! È fantastico! Posso viaggiare attraverso la foresta in questo Monster Truck! Benissimo! Oh, è molto divertente! Le ruote del camion girano e girano, girano e girano, girano e girano, girano e girano... È ora di dire addio al nostro amico Monster Truck! Perché guarda! La mia barca è qui e mi aiuterà a attraversare il mare! Sono alla ricerca di un tesoro! Sarà così divertente! Sì! 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 Finalmente abbiamo raggiunto la cima della collina! Questa è lo straordinario tesoro! Apriamo la scatola! Un aeroplano d'oro! Ne è valso la pena! Continua a guardare Kent l'elefante! Iscriviti al canale Kent l'elefante! Kent! L'elefante! Ciao amici! Come va oggi? Sono qui per insegnarvi i colori! Siete emozionati? Wow! Mi chiamo Kent! Sono un elefante intelligente! Mandato qui per il tuo divertimento! Guardami mentre volo nella mia macchina magica! È così bello! Sto attraversando il colore blu! Cosa ci aspetta ora? Scopriamolo nella mia macchinina! È così divertente! Ecco il rosso! Andiamo! Lo vedo! Oh! È fantastico! Colore rosso! Colore rosso! Dove sei? Eccolo il rosso! Eccolo! Eccolo! Qual è il prossimo? Sono un bravo ragazzo! E... Ho bisogno di un bel... Giallo! Yippee! Mi chiamo Kent! Sono un elefante intelligente! Mandato qui per il tuo divertimento! Wow! Yippee! Qui superiamo la linea gialla! Giallo! Quale sarà il prossimo? La mia macchina è... Arancione! Yippee! Mi chiamo Kent! Sono un elefante intelligente! Mandato qui per il tuo divertimento! Yippee! Yippee! Evviva! Ho superato la linea arancione! Arancione! Il prossimo? Il colore della macchina è... Verde! Andiamo! Bi-bi! Wuhu! È fantastico! Imparare i colori è molto divertente! ho superato la linea verde verde la mia macchina è di un bel rosa non credi? qui mi sto divertendo un mondo sì, ci siamo quasi e ho superato la linea rosa ciao ciao iscriviti al canale Kent l'elefante Kent l'elefante ciao ragazzi sono Kent Kent l'elefante oggi giochiamo a un divertente puzzle di parole della fattoria adoro il puzzle di parole iniziamo yay tutto quello che dobbiamo fare è cercare il nome degli animali della fattoria nel puzzle chi è questo? una mucca! puoi aiutarmi a cercare le lettere M U C C A? dov'è la M? eccola! ora cerchiamo la lettera U potete aiutarmi a trovare le lettere U C C A insieme? sono lì! eccole! abbiamo trovato Mucca! ce l'abbiamo fatta! M U C C A wow! facciamo il prossimo! uuuu che animale è questo? un'anatra! anatra inizia con la lettera A dov'è l'A? eccola! l'abbiamo trovata! la prossima è la lettera N riusciamo a trovare la lettera N? vicino alla A le trovi? eccole! A e N insieme! ora ci mancano la A T R A riesci a vederle? eccole! fantastico! hai trovato tutta la parola! anatra! meraviglioso! qua qua! qua qua! qual è il prossimo? è un pollo! pollo inizia con la lettera P coraggio bambini! cerchiamo la lettera P dove potrebbe essere? trovato! la prossima lettera è la O cerchiamo la O accanto alla P la vedete? eccola! eccola! O e le prossime sono la L L O eccole! pollo! abbiamo trovato pollo! fantastico! è così divertente! qual è il prossimo? vediamo! vediamo! è un cavallo! inizia con la C cerchiamo la lettera C e... la vedete? l'abbiamo trovata! ecco la C! c'è una A proprio accanto ad essa! e ora ci serve B A L L O eccole! cavallo! l'abbiamo trovato! fantastico! e la prossima è una capra! uh... cerchiamo la C riuscite a vederla? bene! abbiamo trovato una C ora abbiamo bisogno di una A dov'è? eccola! una C e una A vicine! ora ci mancano la P R A eccole tutte vicine! abbiamo trovato la capra! fantastico! abbiamo risolto l'enigua della fattoria! bravissimi bambini! per altri video didattici continua a guardare Kent l'elefante! fino ad allora ciao ciao! iscriviti al canale Kent l'elefante Kent l'elefante! buongiorno ragazzi! è una giornata di sole così luminosa e Kent sta per svegliarsi dalla sua buona notte di sonno forza Kent! prepariamoci per la scuola! svegna! presto a letto e presto ad alzarsi è ciò che il piccolo Kent cerca di fare ogni giorno al mattino! al mattino adora lavarsi i denti con il suo spazzolino giallo preferito! dobbiamo tutti lavarci i denti due volte al giorno per avere i denti puliti e sani spazzola 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 e poi si strofina il viso con un sapone bianco ora scegliamo un vestito speciale per la scuola Kent! non ti piace il vestito rosso? allora vuoi invece quello verde? no no oh Kent adora quello blu lo aspetta una giornata luminosa Kent stai benissimo ora andiamo lo scuolabus è qui e i suoi amici lo stanno aspettando ciao ciao buona giornata di scuola iscriviti al canale Kent l'elefante Kent l'elefante ciao sono Kent e sono in una fattoria guardati intorno è una giornata così bella guarda tutti gli animali della fattoria si stanno divertendo tantissimo ed è sempre bello incontrarli ma aspetta un minuto qui c'è qualcosa di strano cosa c'è che non va? c'è una gallina una capra una mucca un cavallo e un'anatra ma aspetta tutti i loro piccoli sembrano non essere abbinati correttamente sono accoppiati male abbiniamoli correttamente mi aiuterete? abbiniamo i piccoli giusti alle loro mamme iniziamo come si chiama il piccolo della gallina? un puledro? no troppo grande un anatroccolo? no non credo un capretto? no no ancora troppo grande un vitello? un vitello? non può essere corretto deve essere un pulcino! giusto! il piccolo di una gallina è il pulcino cip cip cip?! chip cip cip è così dolce! come si chiama il piccolo di un cavallo? un capretto? no i cavalli non hanno le corna un pulcino no abbiamo già visto che è il piccolo della gallina allora un puledro giusto un cucciolo di cavallo si chiama puledro come si chiama il cucciolo di mucca puledro no appena fatto potrebbe essere un capretto no 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 allora un natroccolo non credo e perché non un vitello sì il cucciolo della mucca si chiama vitello come si chiama il piccolo di una capra un vitello no non credo e invece un capretto giusto il cucciolo di una capra si chiama capretto è così carino come si chiama il piccolo di un anatra un vitello o no decisamente troppo grande perché non un pulcino no non può essere e allora sarà è un anatroccolo il cucciolo di un alatra si chiama anatroccolo qua 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 bravi bambini abbiamo abbinato correttamente tutte le mamme ai loro piccoli questo è stato fantastico imparare in fattoria può essere molto divertente è ora di andare adesso ciao ciao alla prossima iscriviti al canale kent l'elefante kent l'elefante ciao amici oggi faremo un gioco divertente chiamato trova gli oggetti sì è sempre divertente trovare cose vero allora io vi dirò che cosa sto cercando e voi mi aiuterete a trovarlo è divertente iniziamo trova la mela riesci a vedere la mela dov'è dov'è la mela sull'albero sull'erba sulla panchina è lì l' avete trovata bravissimi ottimo lavoro trova la mia macchina riesci a trovare la macchina rossa dove sarà è sulla sedia è sulla sedia per terra l'avete vista è sulla mensola sì eccola avete trovato la mia macchina trova il mio pallone da calcio riesci a trovare il mio pallone da calcio è sul tavolo? sul letto? per terra? dov'è? eccolo eccolo l'avete trovato bravissimi il mio pallone da calcio trova il pupazzo di neve è sulla destra? è in alto o in basso? oppure sulla sinistra? sì eccolo è in basso a sinistra ottimo lavoro bambini l'avete trovato riuscite a trovare la banana? dov'è la banana? è sul piatto di insalata? no oppure sull'isolatiera? sì l'avete trovata bravissimi ottimo lavoro è stato così divertente mi avete aiutato a trovare tutte le mie cose grazie continuate a guardare Kent e l'elefante per altri giochi divertenti ciao iscriviti al canale Kent l'elefante Kent l'elefante ciao sono Kent wow cos'è successo qui? oh mamma la mia stanza è così disordinata è ora di pulirla mi aiuterai? iniziamo non vedo l'ora di avere la mia camera pulita e ordinata dobbiamo raccogliere tutti i miei giocattoli e metterli negli scaffali pronti? wow il mio pallone da calcio e i miei due palloni da basket chissà quanti palloni posso mettere nella mia credenza quanti ce ne sono per ora? mi aiuti a contarli? vediamo un pallone da calcio e due palloni da basket uno più due quanto fa? contiamo uno due tre giusto uno più due fa tre sì ce l'abbiamo fatta abbiamo imparato a sommare ecco che vanno sui miei scaffali le mie macchinine guarda quante macchinine che ho rosse e gialle brum brum vediamo ho due macchinine rosse e due macchinine gialle e due macchinine gialle quante andranno nel mio armadio? sommiamole uno due tre quattro due più due fa quattro abbiamo capito yey brum brum mettiamole sullo scaffale oh e il prossimo è i miei libri quanti libri? tre libri rosa tre libri blu tre più tre fa sommiamo uno due tre quattro cinque sei giusto tre più tre fa sei ottimo siete così bravi a sommare è così facile mettiamone sugli scaffali bene ora puliamo il pavimento cos'altro possiamo trovare? perché non dei pastelli? sì ne ho così tanti quanti ce ne sono? quattro pastelli verdi e quattro pastelli blu uno due tre quattro cinque sei sette otto giusto quattro più quattro fa otto ottimo bravi ecco che vanno sugli scaffali la mia stanza sembra così pulita ora siete i migliori ragazzi grazie per l'aiuto iscriviti al canale Kent l'elefante iscriviti al canale